Allora, abbiamo visto che praticamente fare i blocchi della finca antieri, questi dell'alluminio, sono molto complicati perché il materiale è un po' particolare, le nostre saltatrici non sono il massimo e abbiamo pensato che i nostri colleghi possano avere bisogno di qualche dritta per poter affrontare il problema. Siccome non siamo capaci proprio a spiegare bene le cose, diciamo come si fa a saldardo, eccetera, pensiamo di far vedere un po' all'atto pratico quello che pensiamo realmente e cosa facciamo realmente noi per poterlo saldare. Allora, fare vedere il movimento che dobbiamo fare per fare la saltatura d'alluminio quando ci sono i vari campi. Sono già le registrazioni? Sì. Allora, buongiorno. E fare i vari campati d'alluminio, da stucca a chieda, sono situate anche per le mascherine, quindi il movimento e i rumori della saltatura d'alluminio dovranno essere questo. Se un saltatore riuscirà a fare questo, con questi rumori, stanno stampati, stampati.